Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, il mio nome è Leonardo e nel mio canale tratto di Cronos e di tutto l'universo Mad Market Finance. Se siete interessati quindi a questa tipologia di contenuti, vi invito ad iscrivervi al canale e di mettere like al video. Ho deciso di fare questo video proprio nella giornata di oggi, poiché ci troviamo in un momento molto importante per tutto il mondo delle criptovalute e sto vedendo una continua crescita dell'universo Mad Market Finance. È per me quindi importantissimo spiegare ai neofiti, a coloro che non hanno mai sentito parlare di Mad Market Finance e di MMF, che cos'è e quali sono i passi da seguire per cominciare ad investire in questo protocollo se siete interessati nel farlo. Mad Market Finance, come ho già detto nei miei scorsi video, che vi invito comunque a recuperare, è un DEX ed è il DEX principale all'interno di Cronos. Mad Market Finance ci dà molte opportunità, tra le quali il trade, ossia lo scambio di criptovalute con le tassazioni minori in tutta Cronos e di molto minori rispetto a checks come Crypto.com, Binance e Kraken. Ha una sezione Earning dove possiamo mettere in staking le nostre criptovalute e gli APR in questa sezione variano dal 100% di APR fino ad arrivare al 500% di APR. Abbiamo poi una sezione Volt dove lo staking qui è automatico, ragazzi, basta mettere in staking le nostre criptovalute e vi è un autocompounding, ossia un prelevamento delle vostre reward e uno staking delle vostre reward a loro volta per crearvi più entrate passive. Abbiamo poi una sezione DeFi dove troviamo MTF che ha preso spunto da Olympus DAO per creare una protocol o un liquidity molto sana per tutta la piattaforma che a mio avviso potrà portare beneficio a tutta la piattaforma di MM Finance e troviamo anche la sezione Savanna Finance. Questa sezione che cos'è? È un progetto lanciato sempre dal team di MM Finance ed è un fork di Tom Finance. In questa sezione troviamo tre token principali che sono Savanna, Mshare e Mbond. Se volete approfondire comunque le sezioni Earn, le sezioni Volt e la sezione DeFi, trovate già nei miei scorsi video approfonditamente delle analisi in dettaglio e trovate passo passo cosa fare per utilizzare queste sezioni. Abbiamo inoltre la sezione Launchpad di cui ho parlato già più volte nei miei video e in questa sezione Launchpad cosa possiamo fare? Possiamo partecipare a dei nuovi lanci di protocolli, lanci di progetti all'interno del mondo delle criptovalute per la prima volta. Sempre all'interno di questo DEX che ci sorprende sempre, ogni giorno ci sorprende, si sta espandendo sempre di più abbiamo una sezione NFT, anche questa molto importante che sta avendo una crescita continua negli ultimi mesi e in questa sezione di NFT troviamo due tipologie di NFT che sono i Bureau, che sono quindi i suricati e gli altri sono il Treehouse, quindi le casette sull'albero. Questi NFT perché sono utili, hanno molte utilità, poiché messi in staking all'interno della sezione Earn o all'interno della sezione Volt ci boostano le reward, ossia ci aumentano le reward dal 3 al 2%, quindi ci aumentano l'APR dal 3 al 2%, il 3% se mettiamo i staking in Bureau, ossia i suricati, mentre il 2% se mettiamo i staking le Treehouse, ossia gli NFT delle casette sull'albero. Una cosa veramente importante di cui si parla veramente poco, a mio avviso, all'interno dei DEX o comunque all'interno della DeFi è la sicurezza. M.M. Finance attualmente è uno dei protocolli che è stato più controllato, che ha avuto più audit all'interno di Kronos. Cosa sono gli audit? Sono dei controlli fatti da degli enti certificatori all'interno del mondo delle criptovalute. Questi enti certificatori cosa fanno? Analizzano il codice, analizzano i smart contract e ci dicono se ci troviamo davanti a un protocollo sicuro o meno. Poi vi posso dire già che sono stati comunque hackerati protocolli con più audit, ma sicuramente avere dei controlli da parte di enti molto rinomati all'interno del mondo delle criptovalute non fa mai male. Abbiamo degli audit, ossia dei controlli fatti da Slow Mist, da Certic, da Paladin e da Immunify. Oltretutto vi posso dire che il team di Mad Market Finance ha fatto il KYC, ossia il team e i developer cosa hanno fatto? Hanno presentato la loro documentazione, quindi si sanno nomi e cognomi dei developer e di chi fa parte del team, quindi se succedesse comunque un casino, una problematica, i nomi si sanno. Non si sanno pubblicamente, ma il KYC è stato fatto a più enti certificatori, quindi ci troviamo davanti a un DEX, a mio avviso, di Kronos, tra i più interessanti, anzi, a mio avviso, il più interessante attualmente all'interno di Kronos, contando oltretutto i volumi di transazioni che vi sono giornalmente all'interno di tale piattaforma. Proprio in questi giorni abbiamo visto il raggiungimento di 1.25 miliardi in total value lock all'interno di Mad Market Finance e una maggiore TVL, ossia un maggiore ammontare di denaro utilizzato all'interno della piattaforma e una maggiore liquidità rende tutta la piattaforma più sicura, poiché una piattaforma con un TVL più alto e una liquidità più alta ci permette di fare degli scambi, ossia di vendere e comprare i token con più tranquillità e ci permette di avere delle fee molto, molto basse. Andiamo a vedere adesso invece qual è il prezzo che sta avendo MMF, ossia il token principale della piattaforma Mad Market Finance. sta avendo una crescita ormai esponenziale negli ultimi 90 giorni, negli ultimi 3 mesi. All'incirca un mese fa avevo iniziato a parlare proprio di questo progetto del token MMF e avevo detto a mio avviso che era molto, molto interessante e poteva dare delle performance incredibili e il tutto si è avverato, avevo iniziato a parlarne quando il prezzo era dell'incirca 0.37 centesimi di dollaro e attualmente ci troviamo ad un prezzo di MMF di 1.14 centesimi di dollaro. Oltretutto una cosa molto interessante da dirvi, vi posso dire che i token MMF o qualsiasi altro token all'interno di Mad Market Finance non è listato e cosa vuol dire non è listato? Vuol dire che non è possibile comprare i token da nessuna parte ora, quindi non potete trovare i vostri token all'interno di Crypto.com, non potete trovare i vostri token all'interno di Binance, di Kraken o di qualsiasi altro CECS. Questo è molto importante poiché ci troviamo ancora agli inizi del progetto, quindi un possibile listing o un possibile lancio di questi token all'interno di CECS potrebbe far vedere un grandissimo aumento di prezzi a mio avviso. Ci troviamo, come vi dicevo prima, adesso ad un prezzo di 1.14 centesimi di dollaro e come vi ho già detto nei miei scorsi video abbiamo rotto il range che stavamo muovendo ormai da giorni che andava dagli 1.1 dollari fino ad arrivare agli 0.93-0.94 centesimi di dollaro. Abbiamo rotto questa resistenza e già subito dopo, dopo un giorno, abbiamo visto questa resistenza trasformarsi in supporto e stiamo ripartendo. A mio avviso, in tempi brevi, non so quando vedrete questo video, comunque in tempi brevi potremmo ritoccare l'alltime high, ossia il prezzo massimo attuale di MMF che è stato di 1.21 centesimi di dollaro. Potremmo toccare questo prezzo, a mio avviso, grazie anche al listing di Crypto.com, ossia la possibilità di comprare MMF all'interno di Crypto.com che sempre, a mio avviso, sarà imminente e l'ho già spiegata nel mio scorso video. Sempre per quanto riguarda MMF, vi voglio portare all'interno della documentazione principale dove vi spiegano comunque i passi che sono stati fatti, le opportunità che potete avere all'interno della piattaforma e vi spiega quali sono i passi successivi che farà MMF. Vi voglio dire comunque che la roadmap non racchiude tutti gli sviluppi che avrà MMF. Abbiamo visto, di fatti, il team che non si è mai fermato sta creando un metaverso con il Medmercat Arena, ha creato Somano Finance, MMO, ha creato METF e tutti questi progetti non erano all'interno della roadmap. Quindi la roadmap è solo l'inizio di un percorso di crescita, ma voglio comunque farvela vedere. Il team di Medmercat innanzitutto vuole dare il potere di governance al token MMF. Oltretutto vuole creare un sistema di bonding, ossia di vendita di MMF LP per aumentare la liquidità all'interno della piattaforma. Vuole listare MMF e gli altri token in degli exchange TR1, ossia in degli exchange di primo livello come Crypto.com e Binance. Oltretutto vuole creare una DeFi Education Platform, ossia una piattaforma dove si spiega che cos'è la DeFi e come utilizzarla al meglio. Andando nelle features vediamo che i passi successivi saranno quelli di multi-chain, quindi Medmercat Finance non si vuole fermare solo a Kronos, ma vuole espandersi su più chain. Quindi immaginatevi un Medmercat Finance su Binance Smart Chain, su Polygon, sulla rete Ethereum. Immaginatevi quale possa essere la crescita. In quei casi, oltretutto, vuole avere un sistema di trade mining, ossia potremo essere ripagati in MMF ogni qualvolta facciamo dell'operazione all'interno di Medmercat Finance. Abbiamo una sezione futura che avremo che è l'old lock in stile Crypto.com, ossia blocchiamo i nostri token per un mese, tre mesi o comunque per tempi ben delimitati e in questo caso avremo degli APR fissi, stabili, più sicuri. Per quanto riguarda invece l'user experience, cosa vogliono fare? Vogliono aumentare il numero di lingue all'interno di Medmercat Finance e di non rimanere quindi solo all'inglese, ma di aggiungere francese, spagnolo, mandarino, eccetera, per chiamare all'interno del protocollo più utenti possibili. Oltretutto vogliono aumentare le personalizzazioni all'interno di Medmercat Finance per tracciare i vostri profitti o comunque per tracciare il vostro portfolio all'interno di Medmercat Finance e per fare tutto ciò vogliono personalizzare la dashboard. Detto ciò, in cosa voglio esservi utile? Voglio essere utile a tutte le persone che non hanno ancora investito in Medmercat Finance, hanno già fatto i loro studi, hanno casomai guardato tutti i miei scorsi video dove vado più approfonditamente a parlare di ogni singola sezione di Medmercat Finance perché vi assicuro che già la spiegazione di Sabana Finance e MTF richiede il suo tempo. A mio avviso è essenziale che vengano spiegate in modo corretto e quindi vi ricordo, andate a vedere gli scorsi video se volete ancora approfondire tali argomenti, ma cosa fare a questo punto? Se avete deciso di investire all'interno di questo protocollo, come possiamo fare? La cosa più semplice, ragazzi, che vi consiglio di fare è l'utilizzo dell'applicazione di Crypto.com per inviare le vostre criptovalute direttamente su Medmercat Finance e sulla chain, quindi, di Kronos. È possibile farlo, sì, tramite Metamask o comunque altri wallet, ma utilizzando Crypto.com e l'applicazione di Crypto.com abbiamo la strada più semplice, ossia è il modo più semplice per spostare i nostri token. E dico tutto ciò, poiché usando Crypto.com è sia semplice spostare le nostre criptovalute, i nostri investimenti verso M& Finance, ma anche la cosa più semplice per prelevare i nostri investimenti da M& Finance a Crypto.com per poi vendere i token nel momento in cui deciderete di farlo o spostare direttamente sulla carta di Crypto.com. Quindi per prima cosa dovete aver scaricato due applicazioni che sono l'applicazione blu di Crypto.com e l'applicazione bianca di Crypto.com DeFi Wallet. E dovete avere collegata l'applicazione bianca Crypto.com DeFi Wallet all'applicazione principale. Cosa dovete fare qui? Partiamo da zero, quindi facciamo che non avete ancora criptovalute ma dovete comprarle per la prima volta. Dovete andare nella home principale di Crypto.com, schiacciare il tasto in basso a destra, track, in questa sezione ragazzi sceglierete la criptovaluta che volete comprare ed inviarvi a M& Finance. Io sinceramente vi invito a valutare CRO poiché è quella che ci fa pagare i minori fee nel momento in cui spostiamo le nostre criptovalute quindi vi invito vivamente a valutare CRO e nel momento in cui decidiamo di comprare il token cosa facciamo? Selezioniamo Crypto.com, CRO e andiamo in Buy CRO. Cosa dovete fare qui? Qui potete comprare le vostre criptovalute tramite la carta di credito di debito o potete comprarle tramite la vendita delle altre criptovalute con il Crypto Wallet o tramite il Fiat Wallet. So che in tantissimi non utilizzano ancora il Fiat Wallet e il Fiat Wallet che cos'è? È una parte all'interno di Crypto.com che possiamo caricare facendo dei bonifici bancari verso l'applicazione e il Fiat Wallet a mio avviso è molto molto interessante perché non ha fee aggiuntive quindi se vogliamo pagare, se vogliamo comprare un BTC oppure se vogliamo comprare 1000 CRO li pagheremo, in questo caso al tempo era 409,37€ e basta. Non dovremo quindi pagare fee aggiuntive. Vi dico già di stare molto attenti alle fee aggiuntive poiché dopo i 30 giorni dal download dell'applicazione di Crypto.com se pagate con la carta di credito di debito che è comunque più semplice, lo so ragazzi che è più semplice farlo ma dopo 30 giorni che avete fatto il download dell'applicazione pagherete un 3% in più di fee e credo comunque di stare attenti ragazzi e di valutare, di utilizzare il Fiat Wallet perché state sennò buttando dei soldi a gratis. Come fare quindi per depositare i vostri soldi all'interno del vostro Fiat Wallet? Dovete andare nella home principale di Crypto.com, andate nella sezione Transfer in questa sezione Transfer cosa dovete fare? Dovete schiacciare il tasto in basso a sinistra Deposit schiaccerete il tasto Fiat Wallet dopo aver schiacciato Fiat Wallet schiaccerete Euro ossia la valuta con cui volete pagare schiacciate Bonifico SEPA e qui sotto dopo troverete le vostre informazioni bancarie a cui fare il Bonifico nel Bonifico ci vorranno un paio di giorni quindi non vi preoccupate se in uno o due giorni non trovate ancora i soldi all'interno dell'applicazione di Crypto.com ma i vostri soldi arriveranno non ho ancora sentito di problematiche tramite i Bonifici SEPA quindi vi consiglio di valutarlo tutto ciò ve lo dico per farvi risparmiare casomai dei soldi nella compravendita di criptovalute quindi in questa sezione possiamo comprare le nostre criptovalute come vi dicevo prima tramite Fiat Wallet, Crypto Wallet, Credit Card e qua sotto in basso troverete il tasto BUY dopo aver fatto tutto ciò cosa dobbiamo fare? molto semplicemente dobbiamo spostare le nostre criptovalute che abbiamo prima comprato nella DABS ossia nell'applicazione di MedMarketFinance dovete schiacciare quindi il tasto TRANSFER questa volta che lo trovate sempre nella sezione centrale dell'applicazione di Crypto.com questa volta a posto di fare deposit faremo WITHDRAW quindi li preleviamo i nostri soldi schiacciamo il tasto CRYPTO perché questa volta andiamo a movimentare le criptovalute e selezioniamo il tasto CRYPTO.com DeFi Wallet e questo tasto vi ricordo che lo troverete solo nel momento in cui avete collegato l'applicazione bianca Crypto.com DeFi Wallet alla vostra applicazione primaria quindi vi prego di farlo aiuterà in primis voi quindi dovete per forza farlo una volta aver schiacciato Crypto.com DeFi Wallet selezioniamo la moneta che ci vogliamo inviare in questo caso abbiamo selezionato Kronos quindi schiacciamo CRO e per i neofiti vi consiglio vivamente di mandarli direttamente alla chain di Kronos senza bridging che casomai vi farebbero risparmiare uno 0,1 CRO per dirvi ma mandateli direttamente a Kronos sinceramente vi consiglio di fare così quindi selezionate qua a destra la chain Kronos che è quella più a destra di tutti scegliete il numero di monete che vi volete mandare vi ricordo di tenere casomai uno o due CRO da parte per pagare le possibili transazioni e basta fare l'invio e li troverete dopo pochi minuti o dopo un paio di ore all'interno di MedMarketFinance vi dico un paio di minuti o un paio di ore perché dipende quanto è congestionato sia quanto è utilizzato in quel momento la chain di Kronos una volta fatto questo vi troverete i soldi e le vostre criptovalute all'interno di MedMarketFinance e proprio all'interno di MedMarketFinance nella sezione Trade che vi ho fatto vedere prima sarà possibile per voi quindi scambiare CRO per gli altri token come MMF e quant'altro quindi siete completamente all'interno siete completamente liberi di fare tutto ciò che volete ma se non avete ancora visto come si fa a entrare su MedMarketFinance è molto semplice stavolta passiamo all'interno dell'applicazione bianca la crypto.com DeFi Wallet e cosa dovrete fare? dovete schiacciare il tasto in basso centrale dApps una volta schiacciato il tasto in basso centrale dApps vedremo questa schermata che si divide in Popular si divide in Kronos dApps e in Saved potete entrare all'interno di MedMarket in due metodi attualmente uno è cliccando semplicemente qua MMFinance mentre se volete aiutare il canale aumentando di una piccola percentuale dell'1% le mie reward vi pregherei di utilizzare il link il referral che trovate qui sotto per entrare all'interno di MedMarketFinance tramite il mio link referral questo dovete fare basta copiare questo link metterlo qui sopra all'interno della barra di ricerca e schiacciare invio vi invito inoltre a salvarvi tale link e per salvarlo basta selezionare qua in basso a destra l'iconcina di Saved quindi qui dopo siete direttamente all'interno di MedMarketFinance e potrete fare tutto ciò che volete ultimo step perché lo dico soprattutto per i neofiti come sarà possibile vedere dopo i vostri soldi all'interno di MedMarketFinance basta andare nella sezione sezione exchange e qui in questo caso se avete inviato dei CRO per dirvi li troverete direttamente qui facciamo per esempio che vi siete inviati 100 CRO dall'applicazione di Crypto.com alla chain di Kronos troverete i vostri CRO qui liberi per essere scambiati per altre criptovalute quindi se facciamo un esempio dovete scambiarli poi per MMF selezionate qui poi MMF dovete fare vabbè qua dovevo connettere il mio wallet comunque dovete fare per la prima volta l'Enable che è il tasto in basso a sinistra vuol dire che accettate il fatto di scambiare per la prima volta CRO per MMF e questa cosa qua non ve la richiederà più quindi in basso a sinistra schiaccerete il tasto Enable e dopo in basso a destra schiaccerete il tasto Confirm che vi permetterà di fare lo scambio l'unica tip finale che vi do è tenetevi sempre un paio di CRO da parte perché le fee ossia le tassazioni per tutte le operazioni che fate all'interno di MMF sono da pagare in CRO se avete domande comunque ragazzi io sono disponibile vi lascio qui sotto il mio canale Telegram il mio canale Twitter potete farmi qui sotto delle domande per chiedermi qualcosa se avete dei dubbi trovate comunque all'interno del mio canale sempre tantissimi video sia per quanto riguarda il Launchpad sia per quanto riguarda la sezione Volt la sezione DeFi con MTF e Savanna trovate di tutto ragazzi ho deciso di non spiegarvi esattamente tutto 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 poiché il video sarebbe stato lunghissimo di più di un'ora e a mio avviso non era spendibile quindi ho deciso di darvi queste prime indicazioni spiegandovi cos'è MMFind soprattutto per i neofiti così iniziate casomai a capire che cos'è e iniziate a capire come potete spostare i vostri soldi all'interno di MED Market Finance per oggi comunque è tutto ragazzi io spero che abbiate apprezzato questo video vi invito ancora ad iscrivervi al canale e di mettere like e cosa dire ci vediamo al prossimo video ragazzi grazie a tutti